Per creare e gestire i testi, su Inkscape è presente uno strumento simboleggiato dalla lettera A e è presente nella barra degli strumenti di disegno. Cliccando quindi sull'icona sarà possibile creare un testo. Esistono due tipi di testi su Inkscape. Il testo, genericamente detto, o Regular Text, che è creabile cliccando in un punto qualsiasi dell'area di disegno e posizionando così un cursore che consentirà la digitazione del testo. Questo particolare tipo di testo è più adatto ad elementi come i titoli o le intestazioni, in quanto non è vincolato a delle specifiche dimensioni o ad un riquadro definito, come avviene invece normalmente per la stessura di paragrafi o testi lunghi. In questo caso quindi, per andare a capo, bisognerà utilizzare il tasto invio della propria tastiera, non essendoci un automatismo per questa azione. Con lo stesso comando è, inoltre, possibile disegnare un'altra tipologia di testo, ovvero il testo dinamico o flowed text. Per farlo, bisognerà tracciare, trascinando col tasto sinistro del mouse da un punto a un altro dell'area di disegno, un riquadro che appunto sarà il contenitore del testo che andremo a scrivere. Come è possibile vedere, in questo caso, il programma andrà a capo automaticamente, una volta che il testo raggiunge i limiti del riquadro disegnato. Riquadro che comparirà con un contorno blu e una maniglia, l'angolo in basso a destra, che consentirà il ridimensionamento dello stesso riquadro. Di conseguenza, modificando la dimensione del riquadro, anche il contenuto del testo sarà riassestato. Una volta modificato, altre maniglie consentiranno una più precisa definizione della geometria. Tra l'altro, sarà possibile utilizzare il tasto CTRL, vincolando in questo modo una delle due dimensioni del rettangolo. Qualora il rettangolo fosse troppo piccolo per contenere l'intero testo, il suo contorno verrà colorato di rosso, ad indicare appunto la presenza di altro testo non visibile. Modificando nuovamente il riquadro, al fine di far comparire l'intero testo, il contorno di questo tornerà ad essere blu. Per modificare il contenuto di un testo, o cambiarne la formattazione, è necessario richiamare lo stesso comando che abbiamo utilizzato per crearlo. Una volta selezionato, sarà possibile posizionare il cursore nel punto in cui si vuole agire ed effettuare le modifiche. E' possibile modificare il testo, anche selezionando preventivamente il testo che si vuole appunto editare, e selezionando successivamente il comando di modifica del testo. Un altro modo per attivare la modalità di editing di un testo, è un doppio clic esercitato con il puntatore sul testo che si vuole modificare. Una volta all'interno della modalità di editing, sarà possibile effettuare le modifiche tipiche dell'editing del testo, e quindi, ad esempio, modificarne il carattere, il font, o la dimensione, modificarne lo stile, e poi, per esempio, o l'allineamento. Altri elementi modificabili sono, ad esempio, lo spazio tra le lettere, lo spazio tra le parole, o l'interlinea. Nel caso, invece, del testo regolare, sarà possibile, inoltre, anche modificare altri aspetti, come lo scostamento orizzontale o verticale delle singole lettere, o la rotazione di queste. Per l'editing del testo, è, inoltre, consigliabile, sfruttare le scorciatoie da tastiera, ovvero, l'utilizzo dei vari tasti, delle frecce, dei tasti inizio e fine, dei comandi, dei tasti control e shift, che consentono di effettuare delle selezioni, o di spostare il cursore, in specifici punti, con una certa velocità. In particolare, è possibile, ovviamente, utilizzare le frecce destra e sinistra per muovere il cursore lungo, lungo il testo, o sopra o sotto, per passare da una linea all'altra, ma utilizzando, insieme alle frecce, il tasto control, ad esempio, sarà possibile muoversi velocemente da una parola all'altra. Mentre, utilizzando le frecce verticali, sempre con il tasto control, sarà possibile passare dall'inizio di un paragrafo all'altro. I tasti inizio e fine, invece, home, end, in alcune tastiere, permettono, invece, di passare all'inizio o alla fine di una riga, o, insieme al tasto control, all'inizio o alla fine dell'intero testo. Questi tasti, e queste combinazioni di tasti, insieme all'uso del tasto shift, permetteranno, invece, una selezione rapida, utilizzando le stesse modalità. E, infine, è utile ricordare che la combinazione di tasti control-A consente la selezione dell'intero testo, anche qualora parte di questo fosse nascosto, per esempio, se il riquadro fosse piccolo, mentre, con il mouse, è possibile fare un doppio clic su una parola per selezionarla, o un triplo clic per selezionare un'intera riga. Le modifiche effettuate direttamente nello spazio di disegno, utilizzando il comando per la creazione, l'editing del testo e la toolbar dedicata, sono effettuabili anche attraverso la finestra di dialogo, che si può richiamare dall'icona recante, una lettera T, presente nella barra principale del programma. Nella finestra di dialogo avremo la possibilità di modificare, allo stesso modo, gli aspetti principali della formattazione, e anche, attraverso il tab dedicato al testo, i contenuti del testo. Non è tuttavia sempre consigliabile l'utilizzo di questo sistema di editing, perché, in questo caso, le modifiche effettuate saranno applicate sull'intero testo, e non sarà possibile, invece, scegliere quale parte di testo vogliamo modificare. Su Inkscape è inoltre possibile legare un testo a delle path in due maniere differenti. E' possibile, infatti, disporre un testo lungo una path, e per farlo sarà sufficiente selezionare un testo, e può essere sia un Regular Text o un Float Text, selezionare la path, e richiamare il comando Put on Path dal menu Text. In questo modo, il testo sarà collegato alla path, e questo vuol dire che potremo selezionarlo e modificarlo come con qualsiasi altro testo. di interno, selezionate lezze selezionare il segno, di interno e montano potrebbe essere segno, poich raised, o salone ci sono Two берic 2030, o agio, e ajusta all Pele, baso in noi, cattopone lezze, cattopone lo so. Alessandro, lezze, Essendo il testo collegato alla path, quando modificheremo questa, anche il testo si adatterà alle nuove conformazioni. Grazie. Ovviamente sarà possibile nascondere la path, metterla su un layer trasparente, metterla su un layer invisibile, oppure eliminarne le proprietà del riempimento e del contorno. E' utile tuttavia notare che è anche possibile spostare il testo rispetto alla path. Facendo il contrario, ovvero spostando la path, comunque avremo un'azione conseguente anche sul testo. Ma in ogni caso i due elementi rimarranno collegati e pertanto, modificando la path, il testo continuerà a ricevere le trasformazioni. Per sciogliere il collegamento che esiste tra la path e il testo, sarà possibile richiamare il comando remove from path, sempre dal menu text. E' infine utile far presente che è possibile cambiare la disposizione del testo rispetto alla path, ovvero invertire il senso di lettura, selezionando quest'ultima e richiamando il comando reverse. Esiste infine un ultimo modo per relazionare un testo rispetto a una path. per farlo creerò un flow text utilizzando un'estensione che crea un testo automatico definita lorem ipsum. come dicevamo, si tratta di un comando che pone in relazione una path. una path, una forma, una shape, con un testo, in questo caso però facendosi che la path sia il contenitore, quindi il riquadro a cui il testo si adatterà. il comando flow into frame è richiamabile sempre dal menu text. In questo modo il testo si adatterà quindi alla geometria che abbiamo tracciato. bene la question. anche in questo caso modificando la geometria quindi ruotandola, scalandola, spostandola il testo ne seguirà l'evoluzione qualora tuttavia il testo non fosse interamente contenuto nella path disegnata e volessimo estenderlo a un'altra path potremmo farlo infatti sarà sufficiente disegnare la nuova path che può essere anche una shape e selezionando il testo e le due geometrie richiamando lo stesso comando text flow into frame vedremo come il testo andrà a riempire la prima geometria e continuerà sulla seconda permettendo così di modificare dinamicamente le geometrie e mantenendo tuttavia interamente visibile il testo presente è importante far notare che in base all'ordine di selezione verrà definito l'ordine con cui verranno riempite le path scelte ovvero se voglio che questo inizi nella forma irregolare selezionare a fagiolo qui disegnata dovrò selezionare questa per ultimo e quindi dopo il testo dovrò selezionare prima il rettangolo che è la geometria terminale che deve ospitare il testo e poi appunto questa forma e richiamare quindi il comando flow into frame anche in questo caso come è possibile vedere il testo può essere spostato liberamente dalle geometrie mantenendo tuttavia un collegamento che fa sì che modificando la geometria anche il testo verrà aggiornato per rispettare la trasformazione avvenuta nella geometria collegata per concludere l'argomento testo è infine utile far notare come è possibile trasformare il testo che resta ovviamente un elemento dinamico sempre modificabile nei contenuti e nella formattazione in delle path per farlo bisognerà richiamare il solito comando object to path una volta selezionato il testo nel caso di un testo con più parole queste verranno raggruppate e quindi sarà necessario sgrupparle per poter agire sui singoli nodi grazie a tutti 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 in questo modo sarà ovviamente possibile effettuare delle modifiche estremamente puntuali, tuttavia avremo perso la possibilità di tornare a modificare dinamicamente i contenuti e la formattazione del testo che ormai è trasformato in una serie di parts.